Da giugno paghiamo bollette astronomiche. 12.000 euro a giugno, 14.000 a luglio. Ne è arrivata un'altra da oltre 10.000 euro, anche se siamo rimasti chiusi per ferie. Se continua così, dovremo chiudere. Abbiamo dovuto chiedere un fido di cassa perché temiamo di trovarci allo scoperto in banca. Ci faranno chiudere tutti. Non ci sono alternative. Questo è quanto riferisce un titolare di una nota e prestigiosa pasticceria di Chioggia che conclude Per il momento rimaniamo aperti, ma non faremo né frittole né i panettoni perché dovremo venderli a prezzi altissimi, quindi rinunciamo a produrli. Si tratta di una situazione drammatica che colpisce tutti indistintamente. C'è chi ha allungato il periodo di ferie, alcune attività estive hanno anticipato la chiusura, altri vicino alla pensione stanno valutando di chiudere. Un dramma a cui se non arriveranno provvedimenti urgenti di aiuto concreto da parte del nuovo governo Meloni, le conseguenze saranno molto grave per tutti. Grazie a tutti.